Un'intera notte, una giornata di ricerche, ma ancora non si sa nulla di Mirco Tini, l'uomo di 38 anni, di professione assicuratore, residente nella frazione di Morano a Gualdo Tadino, scomparso nel nulla da mercoledì 27 novembre. Padre di due figli, ancora in tenera età, l'uomo non ha dato più notizie di sé, dalle prime ore del pomeriggio del 27, ma solo alle 18.20 sono scattate le ricerche ufficiali dopo l'allarme lanciato dai familiari. Telefono spento, appuntamenti saltati, Mirco è sparito nel nulla. L'ultima cella telefonica, agganciata dal suo cellulare, che risulta spento, è quella del monte Serra Santa, dove si sono subito diretti soccorsi. Vigili del fuoco di Gaifane Perugia e Gubbio, soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, con il supporto di una unità cinofina molecolare proveniente dall'Abruzzo, carabinieri e il settimo reggimento dell'aviazione dell'esercito, con un elicottero, hanno lavorato tutta la notte e la giornata, concentrando le ricerche nella zona tra la balza di mezzogiorno e il cosiddetto salto del prete, dopo aver ritrovato l'auto dell'uomo lungo la strada che sale al Serra Santa. Non è un esperto escursionista, non un cacciatore né cercatore di funghi, quindi non si esclude nessuna ipotesi, dalla passeggiata in montagna interrotta, da un'improvvisa nebbia e maltempo che potrebbero aver impedito all'uomo di ritrovare la strada del ritorno, l'area di ricerca è quanto mai impervia, facciando sulla Valle del Fondo, nota per i suoi boschi fitti e scoscesi, potrebbe essersi ferito senza la possibilità di dare l'allarme. Nel pomeriggio odierno è stato diramato un appello su Facebook che recita così, da ieri risulta disperso, Mircotini potrebbe trovarsi in stato confusionale, chiunque abbia notizie utili e ha pregato di contattare il 115, grazie per l'aiuto, condividete il più possibile. In tanti hanno condiviso e manifestato apprezzione per le sorti dell'uomo molto conosciuto. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.